buona ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale io sono gabrielino 91 e oggi siamo qui con stadium renovation allora ragazzi tutto quello che dobbiamo fare naturalmente come sempre vi lascerò qui sotto qui in descrizione il link di steam per potervi scaricare ancora la versione demo tutto quello che dovremmo fare ragazzi è quello di andare a ristrutturare degli stadi dunque andiamo subito con una nuova partita essendo un titolo in accesso anticipato vediamo un attimino ragazzi se gliela famo naturalmente a registrare eccetera eccetera non lo so ragazzi se porterò anche una live su twitch non lo so ancora in stadium dovrei ristrutturare campi da gaucho e stadi in questo tutorial imparerai le meccaniche di base come l'uso degli strumenti l'acquisto di mobili nel negozio e la gestione dei compiti ok buona fortuna grazie caro iniziamo già prima di tutto ragazzi a muovere i primissimi passi si aspettiamo un attimino ragazzi che si stabilizzi un attimo perché come detto essendo un accesso anticipato forse magari potremmo ecco potremmo avere un attimino di botte di lag quindi lasciamo un attimino stabilizzare il tutto ok allora vediamo un attimino ragazzi quello che dobbiamo fare è quello di tagliare i cespugli pulire i sedili sostituire i sedili butta la spazzatura rimuovi assi pulisci la sporcizia stendi il tappeto erboso e ripara i fusibili si voi a quanto pare mi sa che vedete completamente tutto allora iniziamo subito questa roba che faccio della butto si a quanto pare si dunque un cassonetto dell'immondizia credo che dovrebbe essere da queste parti ops no scusi eh ma sono stato bloccato da questi cosi e che cos'è dov'è che vado a buttare io l'immondizia tra l'altro a redagliala scusi sacchetto venghi qui ok continuo un attimino ragazzi a darmi una piccola ripulita in giro prima di tutto perché è quello che dobbiamo fare in ogni caso ok allora questo qui è pieno quindi bisogna buttarlo ok andiamo avanti a ripulire ecco fatto tutto a posto credo che dovrebbe essere tutto a posto eh ridiamo una piccola controllatina sì forse magari mi sa che ci dovrebbe essere la sensibilità del mouse troppo alta la porto più o meno ad un 3.4 ora vediamo un attimino sì dai più o meno adesso potrebbe andar bene ok allora dobbiamo in ogni caso butta la spazzatura mi sa che ce n'è ancora dell'altra in giro allora dovrei dare una piccola occhiata anche di qui eh sì infatti eccola tacchete tacchete anche questo questo sì perché in ogni caso sono 15 di 23 per poter ripulire la zona però l'altra spazzatura non so dove che si potrebbe trovare forse magari all'interno di questi così qui non lo so però comunque sia per il momento ragazzi andiamo avanti così butta questo ora com'è che faccio a tagliare io i cespugli qui forse magari mostra nascondi ah ok allora ci accovacciati accendi il tablet sì quasi tipo come house flipper più o meno eh dopodiché spazio salta visualizzazione degli strumenti nascondi mostra eh ok allora com'è che faccio a ripulire qui io forse magari con con la lettera q perfetto abbiamo le cesuie ma li devo proprio tagliare completamente sì taglia i cespugli uno di quattro che figata sì come detto ragazzi più o meno quasi tipo come house flipper insomma ragazzi io uso flipper eh naturalmente lo conosciamo in tanti no sono tre dobbiamo soltanto ripulire questo qui e ok perfetto pulisci i sedili dunque ripulendo i sedili rondella a pressione cesoie martello lettore strumento di costruzione spazzola e mano dunque allora com'è che ti faccio a pulire questi ah ok con la rondella a pressione ma che figata c'è arriva anche fin lì 100% sì arriva in tal caso da tutte le parti sto robo qua 100% ok a posto rondella a pressione dobbiamo pulire anche gli altri quindi diamoci da fa no questo qui mi sa che dovrebbe essere rotto sostituisci i sedili a questi qua ok quindi com'è che li faccio a sostituire sicuramente li dovrò acquistare nuovi per poterli acquistare credo che forse magari li faccio saltare via con il martello ah ok tieni premuto rb tieni premuto rb va bene togli anche questo questo scusi eh vado un attimino su così quanto è che ne abbiamo da cambiare ne sono uno due tre quattro cinque e in questo caso mi sa che li dovrei acquistare stadio eccoli qua sedili da stadio compra uno per volta a no ok quindi me li fa acquistare già così quindi non soltanto uno per volta ma va benissimo anche così eh x nascondere l'oggetto ah ok allora butta via la spazzatura ah e chi l'aveva vista questa a parte il fatto che mi sa che ce n'è ancora dell'altra buttata così random in giro eh sì infatti ne mancano due siamo a 21 anzi non ne mancano un paio a dire il vero butta questo 23 ok perfetto dopodiché rimuovi le assi credo che dovrebbero essere di qui le assi com'è che te le tolgo con il martello naturalmente quindi io faccio così e tacchete che si spaccano queste e suppongo anche queste qui ok ne sono otto però sicuramente queste qui andranno anche nell'immondizia beh certo perché non è che le puoi lasciare così sparse in giro random ok andiamo andiamo a buttare anche questo è ok una volta fatto oddio che cavolo è successo a pulisce la sporcizia con sempre la moneta la ronda e la pressione ma possiamo anche cambiare l'ugello avanti avvicinati clicca per lo sporco no a quanto pare mi sa che l'ugello avanti non lo possiamo cambiare e vabbè dai super il momento ragazzi andiamo avanti così credo che dovrebbe essere pulito non lo so io comunque vado avanti si pian pianino pian pianino ragazzi qua famo tutto è 100% anche qui e oddio ma hanno azzozzato veramente così tutto che poi mi sembra quasi una cosa strana che vada via così con dell'acqua però è che poi voglio dire va qua dov'è che la andiamo a prendere che abbiamo le tanniche d'acqua dietro ma non credo non credo comunque vabbè non facciamoci tutti quanti questi problemi signori anche tipo come station renovation anche più o meno il genere insomma ragazzi si avvicina anche a quello non mi dite che sarà da pulire anche all'interno presumo forse di sì fatemi dare un'occhiata allora qui abbiamo un altro disegno e dai forza dammelo completato dunque allora possiamo entrare qui oddio ma allagato il mondo è più dunque allora credo che queste macchie andranno via anche con la rondella a pressione ed in effetti vanno via così come il pane che poi comunque con ste luci non è che si vede poi così tanto eh anzi dov'è l'altra stanza qui dentro oddio qua se vede già niente credo che forse questi qua ragazzi dovrebbero essere gli spogliatoi non lo so eh io la butto lì come come idea apri qua non abbiamo niente qui niente apri a posto e questo l'abbiamo fatto diamo la mezza ripulita anche qui ok perfetto allora passa a questo stendi il tappeto erboso dove qui dobbiamo stenderlo qui avvicinati al veicolo trova la maniglia o la porta premie per entrare tieni premuto per nascondere il paio del il palo della porta ah ok così allora eh scusi dica ma è questo quello che devo usare macchina per la posa del tappeto erboso premerei per entrare nel veicolo oh madonna oh santi dio ma devo mettere il tappeto qui ma mi scusi eh a quanto pare si mi sembra di sim dunque allora come che funziona F per abbassare il rullo del tappeto oddio cioè no ma stiamo mettendo il tappeto erboso ma che figata non è sto gioco cioè guarda qua a parte che beve non beve poi così tantissimo sto coso eh mi pensavo che doveva bere molta più benzina ma intanto no dunque allora retromarcia mi sa che non funziona funziona naturalmente soltanto a marcia in avanti e questa è già una cosa buona ok ehm sapete che cosa mi sa che ho lasciato un pochettino di roba qui al lato qui non vorrei che poi dopo alla fine si incazzassero perché non l'ho fatto proprio tutto quanto completo al 100% quindi meglio non far arrabbiare i proprietari del del coso qui quindi allora io togliendo un attimino la porta posso passare perché altrimenti naturalmente non posso passare eh vabbè signori che ve devo di cioè ad essere fatto bene è fatto benissimo anzi ehm io magari ve lo posso anche consigliare però poi naturalmente sta tutto quanto a voi decidere se lo volete scaricare tanto comunque sia ragazzi come detto è una demo scaricabile quindi eh non è che lo pagate o chissà che cosa sperando che comunque lo rilasceranno in versione completa devo dire che è una figata e vabbè però qua signori cefamonotte però eh cioè guardare guardare anche l'angolo di sterzata di sto coso oddio no vabbè ragazzi ha vinto tutto sto titolo come detto sperando soltanto che riescono a rilasciare quantomeno la versione completa come detto spero di sì eh spero di sì dai così dai così vai vai una sgommatina destra e sinistra aspetta che qua ho lasciato un po' di cose oh giovane dove vai? maledizione me ne stava andando a perso al coso qui altra piccolo aspetta un attimo aspetta voi non vi preoccupate scusi potrebbe togliere sto cavolo di coso qui? che mi dà soltanto fastidio mi intraccia oh finalmente che cos'è mi intralciava un attimino il lavoro molto molto carino ragazzi però ci vuole tempo beh naturalmente non è che possiamo andare a velocità folli con sto coso qua eh già è una cosa che già ce l'hanno dato però comunque sia vedo che il tappeto comunque si consuma eh certo sarebbe stata forse magari una cosa molto ideale è farlo un pochettino più largo sto robo in modo da comunque sia eh ricalcolare un pochettino tutto quanto il perimetro insomma io non è che sono un geometra o che cosa però secondo me poteva andare bene anche un po' più largo avanti e mettere magari un rotolo di eh com'è che si chiama di di tappeto erboso un pochettino più largo rispetto a questo qui che è molto più stretto ecco perché se no veramente così c'è famo notte ora non vorrei dire ma secondo me come la penso io potrebbe andare anche bene no? voi che dite? comunque ormai abbiamo quasi finito dobbiamo fare credo che è successo non mi di ah ok missione completata ripara i fusibili allora esci da sta roba qua ah no aspetta mi sa che la devo togliere proprio di qua perché se no magari non riesco a mettere questa ok allora dobbiamo riparare i fusibili dov'è che si vanno a riparare questi fusibili qui? a quanto pare si allora che cos'è che dobbiamo fare? apri la scatola dei fusibili ed è questa oddio madonna mia punta il cursore sul fusibile rotto e tieni premuto allora credo che siano uno due tre e basta dopodichè dobbiamo installare i nuovi fusibili elettronica fusibili compra uno due e tre ok un enorme sforzo eventi in preparazione prepara evento allora vediamo una ma come scusa ma devo giocare io? non lo so preparare sei a pochi passi dall'inizio dell'evento ti viene chiesto di preparare lo stadio per l'allenamento le missioni che devi fare sono sul pennello in alto a destra nella schermata del gioco posiziona sei palloni in campo posiziona una porta piccola sul campo scusi eh allora cerchiamo di capire posiziona sei palloni in campo ma così? buttati ad cazzum primi tab per aprire il tablet stadio palla compra che ne so una due tre quattro cinque e sei posiziona una porta piccola sul campo stadio porta piccola eh non lo so io signori la posso anche lasciare qui che ne so credo di sì hai finito i lavori di base ora puoi ospitare un evento ma come scusate ma l'evento inizia con sei palle è una porta piccola missione due inizia missione completata non lo so eh non lo so evento concluso all'evento bambini nuovi compiti di ristrutturazione tagli i cespugli butta la spazzatura sostituisci i sedili pulisci la sporcizia scusate no vabbè ma io tagli i cespugli sostituisci i sedili ma perché hanno rotto di nuovo i sedili ma sti bambini eh taglia qua che ti devo di cioè facciamo sempre le stesse cose allora quindi allora non passa in avanti andare un attimino cioè su altri determinati campi stadie stadie eccetera pensavo che funzionasse così dunque allora stadio compra ok togli butta via la madonna mia ammazza che zozzeria e che cos'è cioè sti bambini hanno fatto più cacciara che che allenamenti e che cos'è mannaggia voi vai butta via tutto che io poi tra l'altro ragazzi avevo anche pulito che fine ha fatto la roba che io avevo fatto non lo so butta via la spazzatura pulisci la sporcizia dove? ah ridagliala di nuovo dentro gli spogliatoi credo forse eh sì ok allora vediamo un attimo adatto allo stadio ai requisiti dell'evento ah ok adesso quindi dobbiamo fare avvicinati alla targhetta identificativa premie per modificare la stanza quindi allora adesso dobbiamo fare gli spogliatoi altri eventi ti stanno aspettando apri il tablet e seleziona la scheda eventi eventi no vabbè aspettate un attimo però devo fare prima un attimino questo adatto allo stadio ai requisiti dell'evento che poi tra l'altro che cos'è che devo mettere scusa spogliatoio allora aspettate avvicinati alle targhette identificative premie per modificare la stanza digitare il nome della stanza selezioni il tipo di stanza clicca su conferma allora nome della stanza non lo so possiamo chiamarlo spogliatoio 1 tipo di stanza spogliatoio conferma magari qui possiamo fare non lo so magari possiamo chiamarla una toilet e quindi credo che all'interno si la toilet è meglio la toilet si come detto ragazzi è meglio qui e qui magari possiamo fare spogliatoio 2 spogliatoio 2 quindi possiamo fare spogliatoio ok si ragazzi come detto qui magari possiamo fare questa ovvero lo spogliatoio quindi adesso visto e considerato che è uno spogliatoio dobbiamo mettere stagio elettronico sull'est accessorio mobili toilet allora armadietto di metallo visto e considerato che è uno spogliatoio armadietto in legno armadietto vacume di carta un divano un divano in pelle delle seggiole allora io direi quasi quasi ragazzi di fare panchina dello spogliatoio compra vediamo un attimo possiamo fare anche più o meno una roba del genere possiamo fare anche così ora non è che stiamo qui a gigioneggiare vediamo un attimo qui forse magari possiamo mettere un po' di armadietti uno due e tre qui magari me ne puoi mettere un altro qui beh ragazzi io direi che più di questo non so che fare dopodiché spogliatoio andiamo in bagno quindi allora apri il tablet e le selezione alla scheda eventi però comunque sia questo qui se l'abbiamo fatto lì ci sta lo spogliatoio 2 mentre qui ragazzi facciamo il bagno riguardante il bagno invece che cos'è che abbiamo la toilet asciugamani cabina doccia cartigienica doccia erogatore di fluidi lavabo in legno parete della doccia forse non lo so mobili accessori bacheca magari possiamo fare anche un cestino qui se proprio proprio vogliamo distributore di acqua magari lo possiamo mettere non lo so anche magari qui sul lato distributore no compra ma scusate ma dove tra l'altro quanti soldi abbiamo 700 dollari stica peri no niente allora facciamo così eventi prepara requisiti dell'evento spogliatoio 10 20 che cosa utilità missione 1 completa le missioni prima di procedere e vabbè ma è quindi aspetta eventi la comunità locale è un programma ok un amichevole con la città vicina preparare lo stadio e rendi orgogliosa la nostra eccetera eccetera quindi prepara missione completata completa la missione prima di procedere e vabbè ma che cosa però scusate posizione 4 bandiere sul campo così adacazzum ah vabbè guarda se ti va bene guarda io te ne piazzo una qui una diciamo due io ragazzi non è che gioco a calcio eh e un'altra te la piazzo qui ok dopo di che apri il tablet selezioni all'evento inizia l'evento e stiamo proprio con i cavoli e detto questo perdita di un pallone di due bandiere tagli i gespugli sostituisci i sedili pulisci la sporcizia pulisci i sedili butta la spazzatura e ripari i fusibili insomma ragazzi sempre la stessa cosa di prima mi credevo guarda qua che cazzo hanno combinato ma sti bulli ma sti bulli se sono cambiati ma che ne so allora visto e considerato ragazzi che si è fatta una certa vediamo un attimo qui magari lo possiamo chiamare magari un ufficio diciamo così ufficio del capo magari tu entri qui magari non lo so lì potresti trovare anche il capo ma tra l'altro tra l'altro quanti cavolo di soldi abbiamo noi altri perché non è che poi mi viene detto allenamento partita dato lo stadio requisiti dell'evento negozio ma i nostri soldi tra l'altro dov'è che si vedono perché ah sono sopra abbiamo 1185 dollari vediamo un po' ragazzi qui magari possiamo fare anche un altro bello stanzone forse sapete che cosa avrei sbagliato forse magari qui quindi qui invece di mettere lo spogliatoio anzi qui magari possiamo mettere il bagno mentre qui invece possiamo fare lo spogliatoio vabbè dai comunque ci sta ragazzi e ci sta ok dai ragazzi allora io direi che per questo primo episodio della serie di stadium renovation è tutto possiamo salvare anche la partita quindi va benissimo anche così quindi salva mi stadium si mi va bene come detto ragazzi io concludo qui di questo primo episodio della serie di stadium renovation speriamo innanzitutto ragazzi che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare like commentare ed iscrivervi attivare la campanellina qui sotto in descrizione naturalmente vi posso lasciare il link di steam per potervelo scaricare in modo gratuitamente e provarvelo anche voi forse magari andrò avanti con le live su twitch magari non lo so vediamo un attimino fin dove può arrivare questo titolo essendo un titolo ancora in fase di sviluppo in fase di demo eccetera eccetera e niente ragazzi dai noi ci becchiamo in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi